Secondo posto agganciato per la formazione Under-16 di mister Roberto Filarmonico che batte il Catanzaro tra le mura dello stadio Ambrosini di Venticano per una rete a zero. A decidere il match ci pensa Codrara al 32esimo del primo tempo che spedisce il pallone in rete. Una gara ben giocata dalla formazione bianco-verde che non riesce a chiudere il match nonostante alcune buone occasioni da gollo. Da sottolineare che la squadra Under-16 partita in sordina adesso ha agganciato il secondo posto solitario in classifica. Un buon successo che evidenza il buon lavoro dello staff e del settore giovanile che con le formazioni Under-17, Under-16 e Under-15 sta ottenendo ottimi risultati. Una settimana di gran lavoro da parte di Filarmonico che tornerà in campo domenica alle ore 11 presso lo stadio Partenio dove affronterà proprio la Paganesa attualmente prima in classifica. Al tempo stesso questo weekend torna anche la Primavera 3 che allo stadio Partenio affronterà la Virtus Francavilli in un match fondamentale per la classifica. Mister Riandone e il vice Biancolino sono riduci dalla bella gara persa contro il Palermo con alcuni episodi arbitrali che hanno condizionato il match in negativo. Nonostante tutto l'Avellino ha dimostrato di aver carattere tenendo a bada la seconda forza del Giro NRC del campionato Primavera. Riposo settimanale per le formazioni Under-17 e Under-15 che torneranno in campo il prossimo weekend. Riposo settimanale per le formazioni Under-17 e Under-17 e Under-17 e Under-17.